I ragazzi sono importanti perché fondamentalmente quando nasciamo abbiamo delle pulsioni e le pulsioni sono una donazione che riguarda tutti noi. Le emozioni intervengono nella vita di una persona quando la persona si rende conto che non basta nutrirsi, non ci basta mangiare, ma abbiamo bisogno di vedere l'annunciazione di Leonardo o di sentire la sinfonia numero 40 di Mozart. Con il progetto cui abbiamo dato vita e entrandoci nelle scuole, incontrando i giovani da subito, stiamo cercando di costruire un esperimento con molta umiltà ovviamente di educazione sentimentale.